Il sesso è il tuo chiodo fisso? Scopri se hai bisogno d'aiuto. Ti capita di avere più relazioni sentimentali allo stesso tempo? Sì. Sì. Sono un tipo romantico. A voi basta portare uno a letto per dire di averla conquistata. Per noi donne è tutta un'altra cosa. Io non riesco a provare niente. Per nessuno di loro. Ho incontrato una ragazza, una sottrice seriale come me. Città! Quella è una matta amido male. Sono carino però. Oddio! Ho lasciato il commercialista legato al letto. Saremo perfetti per aiutarci. C'è una clinica per sesso dipendente a Cumaier. Siamo tre giorni insieme e tra noi niente sesso. Questo è il patto. Il nostro programma prevede la stilenza per un periodo di 30 giorni. 30? Probabilità di morire se non sai sciare? Altissima. Per flertare col maestro di scima è lasciato in cima la montagna. I momenti mi ammazzavo. Ma non c'è stato niente con il maestro di scima. Solo un rapporto orale. Sono un rapporto orale. Io penso che Eleonora sia la donna della mia vita. Colpo di fulmine? Ancora credi al colpo di fulmine? Tu sei un uomo inaffidabile! Scappa! Dai! I colpi di fulmine. Quasi sempre dettati dalle coincidenze. Ma se non siamo pronti a notarle, non ce ne accorgiamo neanche. E' un'atrice. E' un'atrice. E' un'atrice. E' un'atrice. Grazie a tutti